Concerto all'alba lungo il Tratturo e grande jazz. A Oratino torna il MAC, il Festival di Musica, Arte e Cultura, giunto alla sua terza edizione. Il pezzo forte di quest'anno è il Concerto all'alba, già sperimentato dal musicista e direttore artistico del Festival Simone Sala. In programma anche altre due serate in uno dei borghi più suggestivi del Molise. Il 18 agosto il concerto del Double Drum Sextet, sestetto capitanato dal trombettista Flavio Boltro. Il 3 è un numero magico, diciamo in qualche modo, quindi speriamo che anche l'evento possa essere un evento particolare. Sicuramente l'impronta questa volta, infatti è una jazz edition, quindi c'è questa impronta jazz e poi diciamo in via collaterale c'è anche un evento particolare il 14 agosto all'alba alle 5.45 perché c'è un concerto fatto sul Tratturo, quindi diciamo è un elemento di novità che sicuramente sarà interessante. Il cartellone è stato presentato alla GIL di Campobasso, raggiante, l'assessore alla cultura, Vincenzo Cotugno. Ma la gente vuole rinascere dopo la pandemia, c'è una grande voglia di ripartenza e di ripartire. Lo facciamo con la musica, lo facciamo con il grande cartellone di turismo e cultura, ma anche di Molise e musica. Oratino ormai è la terza edizione musica, arte e cultura, sempre il manifesto della nostra regione. Come si diceva prima in conferenza stampa, un applauso veramente all'amministrazione, agli organizzatori, al direttore artistico e soprattutto con la grande novità del concerto all'alba che sarà una vera e propria chicca di questa manifestazione.